Va bene, andiamo a casa Jason! Che cosa vuoi fare Alex? Nascondino! Ottima idea! Andiamo sì! Alex, che è successo alla casa? È sommersa dalle scatole! Sai, potremmo giocare a nascondino con le scatole! Sì, facciamolo, forza! Ok! Aspetta un po'! Questa scatola si sta muovendo! Cosa, Jason? Si sta muovendo? Ciao, Jason! Sorpresa! Sara, sei tu che hai fatto tutto questo? Beh, di sicuro sono stata io! Ah! È Sara! Ciao, Sara! Bene, perché non giochiamo a nascondino? Chi cerca per primo, ragazzi? Io! Vai tu per primo! Ok, Jason! Vado a contare, ragazzi! Forza, andiamo, andiamo! Uno, due... Dove ci nascondiamo? Non lo so, non lo so! Lì, forse lì! Oh, lì! Io mi nasconderò qui, ok? Quattro, cinque... Ok, ok, so dove nascondermi! Ecco qui! Sette, otto... Non mi troverà mai avanti! Oh! Dieci! Sto arrivando! Dove siete? Forse è qui? Non c'è nessuno! Forse c'è qualcuno qui sotto? No! Mi hai trovata! Ah, sì! Hai fatto in fretta! Vado a cercare Alex ora! Andiamo! Dove sarà? Qui sotto! No, non c'è! No, quella scatola è troppo piccola! Già! Non aprire questa scatola! Ah! Sì! Mi hai trovato! Mi hai trovato, Jason! Come hai fatto? È stata fortuna! Ah, sì! Ma ora a chi tocca? Posso contare, per favore? Ok, tocca a te! Forza, Jason! Andiamo! Ok, mi metto qui! Mi piace molto questa sedia! Bene! Uno! Due! Oh, non lo so, non lo so! Dove andiamo? Vuoi metterti qui sotto? Sì, perfetto! Quattro... Nessuno potrà trovarlo adesso! Sette, otto... Oh no, è troppo piccola! Qui dentro, ragazzi! Mi nasconderò qui dentro! Dieci! E ora cerchiamo Alex e Jason! Iniziamo da qui! Oh, niente Alex e niente Jason! E forse quella... Aspetta! Penso sia troppo piccola! No, è troppo piccola! Non c'entra nessuno! Quella rossa è grande! No! Ma dove sono? Questa è viola! Io la uso spesso come nascondiglio! Oh, esattamente! Eccoti! Ok, troviamo Alex! Che ne dici di questa? Sì, forza! Jason! C'è qualcosa lì dentro! Si sta muovendo! Uh, sì! Guarda, si muove! Uno, due, tre! Ah! Ma come li avete trovato? Sei mosso! Beh, ora tocca a me contare, ragazzi! Siete pronti? Certo, forza! Beh, conterò qui! E siamo a uno, due... Non ci troverà mai! Cinque, sei... Nove e dieci! Troverò tutti! Ok, dove sono Jason e Sarah, ragazzi? Forse qui? O qui? O forse sono qui? Forse qui? Guardiamo un po'? Non sono qui! Aspettate! Uno, due, tre, quattro! Ah! Non riesco a trovarli! Dove sono? Non riesco a trovarli! Dove sono? Uffa! Dove possono essere? Ho girato proprio tutte le scatole! Manca questa piccola, ma non ci sono! Ah! Dove sono? Ah! Diamine! Dove diavolo sono? Hmm... Ah! Aspettate un attimo! E' questa? Forse sono qui dentro? Ah! Non sono qui! O forse sì! Ah! Li ho trovati, sì! No! Non ci credo, ma che bel nascondiglio! Sì, la sappiamo bene! Bene, ragazzi! Abbiamo finito, ragazzi! Grazie per aver guardato Jason Vlogs! Ciao, ciao! E non dimenticate! Iscrivetevi! Ciao! Ciao!